Ti ringrazio Piero di avermi fatto notare una svista, cioè succede che quando traduco degli studi dall'inglese all'italiano, le citazioni sono relative alle pubblicazioni in inglese e così infatti corrisponde alla citazione che ho fatto, però quando ho tradotto in italiano non ho, non sono andato a cercare l'equivalente dell'articolo in lingua italiana. Come puoi vedere, Questions from Readers, Is Jesus the Mediator Only for Anointed Christians? E' appunto nel primo aprile del 79 della Torre di Guardia del 79 in lingua inglese. Mentre lo stesso articolo lo troviamo nell'89, dieci anni dopo, pensate, il 15 agosto dell'89 nella domanda dei lettori hanno pubblicato quel testo che avevano pubblicato dieci anni prima appunto come domanda dei lettori. Quindi una domanda dei lettori a volte però un po' finta, perché diceva insomma che era una domanda dei lettori un po' provocate apposta per introdurre e per trattare delle cose. Del resto non si può mettere in dubbio quella che è veramente la dottrina anche se volete più aberrante dal mio punto di vista principale, cioè introdurre questa divisione. Gesù è sacerdote per tutti, per la grande folla, ma mediatore solo fra Geova e 144.000. Carissimo Piero, io poi dopo ho citato un'altra pubblicazione della quale non fai menzione, ma che ti conferma appunto quella che è attualmente anche questa. La dottrina, Gesù non è mediatore tra Geova e tutta l'umanità, ma scindono senza base biblica le due funzioni, Gesù è sacerdote per tutti, ma mediatore solo fra Geova e 144.000. Ti basta un indice delle pubblicazioni, semplicemente una ricerca un po' più approfondita, se sei un testimone di Geova non avrai nessuna difficoltà per vedere che è questa tuttora la dottrina attuale della Torre di Guardia. Grazie comunque per avermi fatto notare le parole, la svista insomma, dimenticandomi che non sempre appunto corrispondono le riviste.